che soddisfazione questo premio del mojge per questa vita sono molto contento il secondo premio che ricevo dal mojge però questo ci dà gioia perché la giustificazione del premio dice che noi abbiamo regalato ottimismo e speranza negli spettatori grazie anche alla nostra brillante conduzione quella mia e quella di arianna allora io sono contento fatemi ringraziare però chi ha permesso la realizzazione cioè il signor tv 2000 che ha creduto in noi in questo progetto che è stato ideato da alessandro sortino agli autori a alessandra arianna a giorgia a rigo alla nostra straordinaria regista sara e soprattutto grazie al pubblico che ci ha seguito e ha apprezzato che noi raccontassimo la l'eroicità dei gesti normali quanta bellezza c'è in questi gesti ecco cominciamo a ricercare la bellezza se noi abbiamo dato una mano siamo contenti grazie mojge